Dove mi è detto lei? Questa è la nostra. Questa qua è Diego. No. No. Mamma, come si chiama la granita? No, non vado, sono in braccio. Ecco, come venti dove sono in braccio? Infa, ti vuoi sedere qua? Eh, lei non ha. Lasciola di voi. Fatto provare qua. Vale! Vale. Vale. Vale.